Allora aspetta che mi metto che fido. Anche perché poi, così, le sbacciocate vanno bene. Però se noi non facciamo mica qualche segno, non cambia. Certo, chi non se ne intende? Le 17, 10-17. Vediamo bene, qua c'è. Eh, ho sentito Santo Costino. Perché ci tengo, voglio spiegare anche questo, ragazzi. Perché ci tengo a fare qualche simulazione? Perché la sbacciocarta la fa anche Capanni con elettrico. Invece simulare un segno sembra quasi che suoniamo a distesa. Tutto lì, non è che uno vuole fare il fenomeno. Bisogna fare delle cose fatte bene. Allora, ascolta, io mi metto... Allora, fai lì. Vado. 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 Vai, vai, vai. Vado. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.